Sì al nascondiglio di Nauli Perché ho l'impressione Che potremmo chiedere aiuto Alla Alla come si chiama Alla Marshall per questa missione E abbiamo la nostra macchina preferita Per fare questa missione Beep Sto venendo a salvarvi Come se politica li corre Ed eccoci qua In maniera splendida addirittura Nina you know what to do Hey Nina I'm coming I'm gonna kill the bad guy this time Ma dite che posso cambiare vestiti Sì Bello il vestito da dopo festa Dobbiamo vendicarci Siamo appena tornati dal regno dei morti Giusto? Siamo tornati dalla tomba Solo per vendicarci Nauli Nonostante il simbolo dietro lo detesti Comunque È un bel vestito dai È un bel vestito Nauli Userò tutto quello che hai Per ucciderti Tutto quello che hai Ora è mio Nauli Ti suona familiare per caso? Ah ma il fucile della Marshall Non era il fucile normale È quello che carica E fa un colpo penetrante Bene Siamo pronti Nauli Spero che anche tu lo sia Perché sto venendo a prenderti Forse è meglio muoversi Ah sconfiggi Oh che palle Allora aspetta Che cerco di Mantenere un po' di munizioni Allora Vai via Coglione Speravo morisse di sanguato Altri in arrivo Ottimo Si va dove tutto è iniziato Allora Meglio sbrigarsi Ok Speravo Sperare un po' di Sperare un po' di Sperare un po' di Ti fai Sperare un po' di Solo che c'è scritto Operatore Eh già Be your own boss Be your own boss Be your own boss Dividi tutto Tutto quanto disponibile Ma stiamo uscendo fuori dalla mappa In pratica Cioè stiamo andando in tutt'altra zona Dove il gioco è iniziato tra l'altro Dai Che scena Dai Ahi! Lo sapevo! Sì, ma hai due pistole. Usale. Oh, calmo. Ecco fatto. Mi chiedo se questa parte abbia una musica finale. Probabilmente sì. Peccato che non la sentiremo. Di qua? No, devo fare il giro lungo. Va bene. Che tra l'altro mi ricordo questa zona quando abbiamo iniziato il gioco. Stavamo per creparci. Stavamo per creparci malamente anche. Madonna mia, comunque... Le armi elettriche fanno un sacco di stun. Veramente. Stunno da Dio. Guardalo lì. Guardalo lì, che prende anche un sacco di danno. Cioè, l'arma elettrica è la migliore opzione che puoi avere. Dov'è? Ah, eccolo là. Ecco fatto. Oh, calmi. Io ho questo presentimento che Nuali lo uccideremo con un colpo. Massimo due perché il gioco ci impedirà di ucciderlo con un colpo solo. Dai, provateci. Mi sono potenziato per un momento simile. Sapevamo tutti che un giorno questo giorno sarebbe arrivato. Lo avreste dovuto sapere che prima o poi vi sarei venuto a cercare tutti. Ecco fatto. Sarebbe stato figo se... Se il gioco fosse continuato ancora un po'. Con adesso che appariva anche tutta la gang di Nuali. Non solo in questo pezzo finale. Ecco qua. Tu e la tua stupida granata. Meglio mantenerle ancora da parte. Però le munizioni... Ecco fatto. Ma poi intelligente lui. Che si mette davanti al barile rosso. Ma guarda un po'. Questo posto ti riporta indietro con la memoria, eh. Io però... Lo so che l'ho detto anche l'altra volta e non ho finito la frase. C'è ancora una cosa che... Mi preme e speravo tanto sarebbe successo. Uccidere Gwen. C'è ancora la possibilità che appaglia adesso. Teniamola comunque in conto. E credo che... Il combattimento finale con Nuali sarà corpo a corpo. Ovviamente. Vengo con il mio Keyblade. Pezzo di merda. Cos'è? Ah è un... Di... Ottimo, no? Ma c'è ancora il... Il coso. Smaller than I remember cosa? Il mitra o l'aereo? Mi sa che quest'arma ha munizioni infinite per un po', eh. Mi sa che rimaniamo a 300 munizioni per un bel po'. La butto lì, eh. Perché prima erano 200, poi è salito 300. Ecco fatto. Oh, torna! Tiriti su! Ecco fatto. Chi è che mi sta sparando alla morte? Vieni qua, vieni qua. Ho bisogno di curarmi. E addio a Erini. Il fatto che mi hanno investito mi ha quasi ammazzato. Dio mio. Oh, oh, smetti di sparare. Ecco fatto. Un po' di vita l'abbiamo ricaricata, dai. Orca troia, ce ne sono di più. C'è da dire che comunque abbiamo ricaricato la vita. Almeno quello. Le munizioni... ...son quasi finite. C'è ormai... ...ben poco che possiamo fare con questo. Ecco fatto. Questo. Ecco fatto. Un bel po' di gente l'abbiamo fatta fuori, dai. La vita ce l'abbiamo carica. Non mi posso lamentare. Dove si trova stronzali? Dove è Nuali? E comunque gli spariamo. E comunque gli spariamo. Ahia, che male. Comunque, poverino. Oddio. Oddio. Oh, ecco. E' vero come si chiamava il plot. Mezzogiorno di fuoco. Continuiamo. Lo spara patate. Bella ricompensa per una missione finale. Il lanciarazzia tecnologia avanzata. Beh. Bello. Bello. Mi piace. Alla fine è un RPG come tanti altri. È solo che avanzato. Non si dice mai di no ai regali. Assolutamente. Ah, certo. Il lanciapatate giustamente è la skin per questo lanciarazzi. E' vero come tanti altri.